prudenza data memorabile per me il 12 aprile del 1891 avevo compiuto da circa un mese 34 anni da un pezzo mi notavo nel volto e precisamente alla coda degli occhi e sulla fronte certi lievi solchi che mi parevano si potessero ancora chiamare propriamente rughe credevo almeno che il numero degli anni miei potesse tuttavia permettermi di non chiamarli tali momentanei increspamenti della pelle che sotto l'azione del pensiero del riso dell'abituale atteggiarsi della fisionomia erano divenuti stabili ma rughe no scorcevo inoltre da un pezzo nella barba e per entro alla folta e fluente capigliatura poetica povera poesia perduta coi capelli come la forza di sansone qualche sì peli bianchi insomma più d'uno e ma soggettavo ogni mattina davanti allo specchio dell'armadio a un supplizio in uso non ricordo bene presso quali popoli civili dell'antichità o del levo medio al supplizio della depilazione quante volte oimè insieme con qualche pelo bianco della barba non mi vai dagli occhi lacrime sincere di fitto acutissimo dolore inferocivo contro me stesso il pelo profondamente sradicato mi sfuggiva dalle dita crudeli resisteva allo strappo due o tre volte mi asciugavo le lacrime sul volto contratto dallo spasimo e lì da capo a tentare con maggior violenza per la quarta volta ma più ne strappavo e più me ne scoprivo di giorno in giorno oh la mia magnifica barba un tempo orgoglio ora tortura per me ero ormai giunto al bivio il supplizio giornaliero non era più a lungo sopportabile tra parer vecchio o parer brutto a una determinazione dovevo pur venire alla fine non volendo assolutamente ricorrere alla scappatoia del resto inutile sudicia della tintura debbo aggiungere che alla vanità si unì in quei giorni la prudenza cioè la più cordialmente antipatica la più tabaccosa la più vigliacca tra le tante e tante virtù che vessavano il genere umano già a sentir certi moralisti altro che virtù è la moderatrice delle virtù ordinatrice degli spiriti maestra dei costumi e le hanno dato tre occhi in testa figuratevi come deve essere carina di che cuore se avesse un corpo oggi le darei un calcio a quella virtù ma allora purtroppo fui così sciocco da darle ascolto incontratala sul mio cammino mi ammogliai con lei e diventai subito il padre di me stesso cominciai a darmi consigli a monumenti e a chiamarmi figlio mio vivevo da circa tre anni in compagnia oltre che delle nove muse di una donna la quale non si stancava di ripetermi che le piacevo tanto tanto per quei capelli lunghi e con quel barbone gusti a me lei però non piaceva più da parecchio tempo in nessuna maniera e non sapevo come liberarmene un benefattore mi aveva promesso un discreto collocamento a patto però che io troncassi quella relazione pretesto a tante charle e mi tagliassi almeno i capelli poiché la zazzera non conveniva punto diceva alla qualità dell'impiego procuratomi e allora io reso già padre da quella virtù sulla data e non sospettando neppur lontanamente che quel benefattore avesse premeditato il disegno di darmi in esposa sua figlia magnifico mostro in gonnella cosimo figlio mio che fai i versi hai visto non sono arte da guadagnare ha già 34 anni quella donna ti secca mortalmente e ti danneggia l'impiego è buono dignitoso e lucroso su su figlio mio via questi capellacci e via anche il barbone se proprio non te la senti di portartelo a spasso tutto bianco precocemente come tu credi fin dall'infanzia potete bene immaginarlo non ebbi mai amicizia coi barbieri credo anzi che questi mi dovessero tutti e con ragione odiare per la qualcosa uscendo la mattina di quel memorabile 12 aprile già deliberato al sacrificio mi parve di andarmi a rendere a discrezione di un nemico che ne avrebbe egli fatto di me non sapevo assolutamente concepirmi sbarbato e coi capelli corti e via facendo mi lisciavo mi accarezzavo per l'ultima volta la mia bella barba moribonda non so quanto gironzassi sospeso nella scelta del boia non una barbieria in città tutti i saloni tutti anche il più umile angusto bugicattolo e per ogni presuntuoso parrucchiere anacronismo vestito e calzato perlomeno 100 coiffeur 100 hair cutting imbecilli dei pauperatori della nostra lingua mi fermavo un tantino sienò innanzi agli usci a vetri a spiar trepidanti attraverso le tendine no troppo lusso troppi specchi questo è un salone per damerini altrove altrove mi sentivo io stesso avvilito della soggezione che non solo quei cani ma anche i loro clienti mi incutevano sentivo che con quella mia zazzera io dovevo essere per loro un oggetto di derisione stanco morto alla fine e al colmo dell'esasperazione scoperta miracolo una modesta insegna di barbiere in una piazzetta fuori mano mi cacciai senz'altro aggrondato feroce dentro la botteguccia il vecchio barbiere il suo commesso e due clienti allora sotto il ferro si voltarono tutte e quattro a un tempo a guardare come se fosse entrato un selvaggio dopo avermi ben bene osservato da capo a piedi il vecchio mi disse abbia pazienza un momentino signore ecco si accomodi e mi indicò un logro di vanuccio sotto uno specchio a muro graziosamente dalle mosche punteggiato di una miriade di nerellini notai la signorile disinvoltura la familiarità con cui quegli scorticatori trattano i loro clienti anch'io sarò trattato così tra breve pensavo commiserandomi amaramente sì ma intanto che dirò se dicessi che torno da un lungo viaggio di tratto in tratto il giovane mi volgeva un'occhiata glaciale sforbiciando per aria come per non far perdere l'appetito al suo strumento di tortura venne finalmente la mia volta il signore vorrebbe accorciati un tantino i capelli guardai fiso negli occhi quel giovane per fargli intender bene che non ero uomo da farmi canzonare da lui e risposi pigiando sulle parole li voglio tagliati non accorciati e voglio anche rasa la barba a quest'ordine perentorio il giovane si turbò alquanto e come per prendere consiglio rivolse uno sguardo al padrone il quale avendo felicemente allestita la sua vittima si disponeva ad andar via fregandosi le mani certo a colui era passato per la mente il sospetto che io fossi un uomo di malaffare e che volessi dopo qualche marachella alterare i miei connotati interamente rasa mi domandò perplesso ma si può forse radere a metà gli feci io stizzito ubbidisci ai comandi del signore taglio corto il vecchio barbiere ma più per ammanzar me che per dar birra il giovane e se ne andò via quegli allora senza aggiungere altro ma volse con poco garbo nell'accappatoio versò dal bricco l'acqua tiepida nel bacile presso una forbice zac mi portò via mezza barba che fate gridai ho detto rasa rasa si signora mi rispose guardandomi con una certa meraviglia mista di commiserazione ma capirà se prima non si taglia e seguitò a tagliare io non ebbi il coraggio di guardarmi nello specchio quegli presi a insaponarmi sbadatamente stropicciandomi insieme col pennello tutte le dita sulla faccia questa prima operazione che mi parve troppo confidenziale durò circa un quarto d'ora come se nel mentre il malanimo gli fosse sbollito posando il pennello il giovane mi domandò non se l'era rasa da parecchi anni è vero mai gli risposi questa è la prima volta si vede sa bisognerà lasciarla rammorbidire un bel pezzo col sapone io intanto affilo il rasoio ne affilo anzi due quando vedi posarmi il barbino sull'omero chiusi gli occhi e sospirai ma poi fu più forte la curiosità dovevo sì o no far la nuova conoscenza di me stesso e mi guardai nello specchio che mi stava davanti con tutta l'anima sospesa addio gemetti quando già a mezza faccia era rasa dio come son brutto no no perbacco troppo brutto e come faccio il giovane cercò di confortarmi che a poco a poco ci avrai fatto l'occhio impossibile no ma poiché non c'era più rimedio chiusi gli occhi e non vogli più saperne di me mi abbandonai al destino ecco fatto annunciò quegli alla fine il primo sacrificio era dunque compiuto provai a sbirciarmi nello specchio si vede un povero imbecille addogliato che non voglio riconoscere veniamo ai capelli riprese il barbiere come li volete fatemi come che sia risposi non me ne importa più nulla li facciamo alla guglielmo come usano adesso fatele alla guglielmo ma presto quando la prima ciocca recisa mi cadde sull'accapatoio voglio guardarla e dirle addio senza levar gli occhi dallo specchio poveri capelli miei addio gioventù addio poesia quel boia intanto credeva che io dormissi più di una volta sospese l'esercizio della sua funzione per guardarsi non so il naso la punta della lingua nello specchio lo lasciamo fare a una pausa più lunga però mi riscossi per domandargli ebbene ecco mi rispose con aria confusa e un risolino nervoso tremante sulle labbra ho dato mi scusi un come si chiama un colpetto di forbice un po arrischiato e mi accorgo che alla guglielmo non possono più venire vogliamo tagliarli a spazzola come che sia vi ho detto purché facciate presto prestissimo non dubiti è una pettinatura più spiccia più spiccia e più seria e dalle e dalle quella dannata forbice non si dava requi un momento e mi intronava gli orecchi a compir l'opera si rovesciò come un ira di dio sulla piazzetta una compagnia di saltimbanchi con una crudelissima trombastonata e una gran cassa fragorosa il giovine non seppe contenersi più allungava il collo di qua e di là si rizzava sulla punta dei piedi indovinavo con gli occhi chiusi quei movimenti di curiosità ma nello stato d'abbattimento in cui ero caduto non trovavo più la forza di richiamarlo al dovere a un certo punto senti posar le forbici e subito dopo mi senti rullar sul capo non so che cosa dispido che mi fece saltare sulla seggiola era uno spazzolone nero gigante finito domandai e no signore volevo vedere perché sa da questa parte lo guardai in faccia avete forse dato qualche altro colpetto di forbice arrischiato no signore si affettò a rispondermi conseguenza del primo sa credevo di poter rimediare ma vedo vedo con dispiacere che non ce la facciamo più neanche a spazzola sa e allora come feci io frenando a stento la rabbia per paura che quegli non si mettesse a ridere vedendomi la faccia che già a quell'ora aveva dovuto combinarmi possiamo provare ecco sì la punta di forbice tanto l'estate ormai vicina ne starà comodo vedrà vuole voglia o non voglia gli risposi sbuffando non potete mica riattaccarmi i capelli che mi avete già portati via sbrigatevi piuttosto senza stare a guardar fuori ma che si figuri un momento e avremo finito questa volta mi addormentai davvero quanto si protrasse ancora la mia tortura non saprei dirlo forse ore e ore un'eternità so che a un certo punto mi destai di soprassalto al rumore di un paio di forbici scaraventate sul pavimento e vedi il barbiere che si buttava sul divanuccio con la faccia tra le mani che è stato gli urlai quegli scoprì il volto lacrimoso signore io non so non mi è mai capitata una cosa simile ho la iettatura addosso oggi mi perdoni mi compatisca non so dov'abbia il capo cioè lo so benissimo ho la moglie malata a casa soprapparto io mi portai istintivamente le mani alla testa nuda scorticata e che mi avete fatto gridai e mi guardai le mani nulla nulla ci mette quello non tema ma non ci resta più che da radere signore mi perdoni scattai in piedi furibondo me li avventai contro sul divanuccio con un pugno levato miserabile ti sei preso gioco di me ma in quella mi scoprì nell'altro specchio punteggiato dalle mosche e restai pietrificato col pugno sospeso e quell'accappatoio bianco che mi rappresentava a me stesso come un fantasma d'assassinato pietà pietà gemmeva quello del divanuccio tutto tremante mi strappai d'addosso l'accappatoio afferrai il cappello e scappai via imprecando il cappello mi sprofondò sulla nuca mi parve un'offesa mortale fui per rientrare nella botteguccia feroce dalla rabbia ma mi cacciai in una vettura per non commettere un delitto e via a casa manco a dirlo la mia amante guardando dalla spia non mi volle aprire grazie cara le gridai hai ragione non son più io ti saluto per sempre cara e ridiscesi a precipizio la scala esplodendo non so più quanti sternuti in fila grazie a tutti